Andiamo al segno dei gemelli, bellissima luna, fortunatissima nel segno della bilancia, è una giornata in cui dovete prendere iniziative, dovete darvi da fare, dovete farvi avanti, avanzare una proposta sul lavoro, inoltrare una domanda, inviare il vostro curriculum e farvi avanti anche in amore, in ambito sentimentale questa è una luna che può portare delle novità clamorose nonostante il periodo non sia proprio fortunatissimo, ma insomma in questa giornata davvero l'ade abbendata potrebbe essere dalla vostra parte.